Con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, mille confronti, non uno. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, rispondendo a una domanda a margine di un incontro a Città della Scienza, sullo scontro in atto tra De Luca e il Governo Meloni e in particolare il Ministro Fitto, per il mancato sblocco dei fondi di sviluppo e coesione. Il Ministro, ancora una volta, ha smentito De Luca sui finanziamenti destinati alla cultura ed ha elencato gli interventi finanziati dal suo Ministero in Campania. Tra questi l'ex stabilimento Cirio, a Pestum, dove verrà allestito il Museo del Santuario di Santa Venere grazie a uno stanziamento di 20 milioni di euro con fondi cipe e la villa favorita a Ercolano, al centro di un importante restauro di 44 milioni di euro. Al momento non sembrano esserci i margini per un confronto istituzionale tra De Luca e il Governo Centrale. I toni dello scontro, infatti, si fanno sempre più infuocati con l'avvicinarsi delle manifestazioni di protesta in programma per il prossimo fine settimana ispirati dal Presidente Campano. Venerdì la manifestazione a Roma su autonomia differenziata e blocco dei fondi di sviluppo e coesione e l'altra il giorno dopo a Napoli per il mancato accordo tra Governo e Regione per la definizione dei fondi gestiti dal Ministero per la Cultura Campana. Anche per quest'ultimo appuntamento De Luca ha inoltrato alle parti interessate l'invito a partecipare con impresso il logo della Regione in barba alle polemiche sollevate nei giorni scorsi dal centrodestra per i loghi istituzionali di Regione e Anci Campania stampati sugli inviti inoltrati ai sindaci del Sud per la manifestazione di piazza a Roma.